E veniamo al terzo libro, Ho un sogno per mio figlio, 2012, sempre edizione della Meridiana. Ecco, Ho un sogno per mio figlio si occupa, non in particolare come i precedenti di un aspetto, ma si occupa di tutte le sette principali funzioni educative con le quali ogni educatore si confronta. Riconoscimento, cura e attenzione, interesse, stimolo, curiosità e gioco, sostegno, incoraggiamento e svezzamento, conoscenze, competenze e territori, ascolto, aiuto e consiglio, valori e orientamenti scelte, limiti, regole e conflitti. Ecco, tutte le sette funzioni educative che ogni educatore ha di fronte nella sua vita di relazione. E' scritto con l'illustratore del Corriere della Sera e del Fatto Quotidiano ed è stato tradotto in uno spettacolo teatrale portato in numerose città d'Italia. Ecco, la traduzione teatrale è un tentativo riuscito di parlare di educazione non con le solite formule, a volte noiose, anche se potenzialmente interessanti, e soprattutto cerca di favorire la motivazione delle persone nell'attivare un pensiero educativo, sollecitato in modo creativo e soprattutto la motivazione alla partecipazione. Grazie a tutti.